Salve, siamo oggi con il nostro ospite Pietro Coronella, Presidente della Smart Piceno. Pietro Coronella, ho saputo che il 9 febbraio ci sarà all'Hotel Calabrese una manifestazione? Sì, ci sarà un incontro, un convegno, un incontro sui temi della cultura. Il tema è proprio la cultura, il nostro futuro, la nostra bellezza come risorsa, perché la cultura non è solo un fatto che ingentilisce l'animo, ma è anche un grande fattore di sviluppo economico delle nostre economie, della nostra società. Viviamo un anno importante per il nostro territorio, per le Marche, l'anno di Raffaello, ci saranno grandi mostre anche per Licini e quindi abbiamo degli autori, delle risorse importanti che devono diventare anche occasione di lavoro, occasione di sviluppo per i giovani, per il nostro territorio. C'è fame di possibilità di mettere al lavoro tanti giovani che escono dalle università, escono dagli istituti tecnici, dalle scuole che hanno difficoltà a trovare lavoro. La cultura può essere un grande volano di sviluppo e oltre il convegno ci sarà anche un grande concerto proprio di una giovane risorsa del nostro territorio, il maestro Umberto Jacopo Lauretti, che è un pianista, giovanissimo pianista di rilievo internazionale, Umberto Jacopo Lauretti, il maestro Lauretti, che farà un grande concerto, parliamo sempre di domenica 9 febbraio con inizio alle ore 16.15 presso l'hotel Calabresi alla Rotonda di San Benedetto. Ok Pietro, poi ci sono i problemi dell'ospedale, che vogliono fare l'ospedale unico, però molti cittadini non credono a questa bella idea. Ma io sono convinto, sono tra quelli convinti che occorre che sia la città di Ascoli che di San Benedetto debbano avere un forte e qualificato ospedale pubblico. Ascoli perché è il capoluogo di provincia, San Benedetto perché è la capitale del turismo marchigiano, intermedia tra Ancona e Pescara, quindi vedo bene due poli ospedalieri pubblici, magari tra di loro integrati, sia nella città di Ascoli che nella città di San Benedetto, uno vicino all'autostrada e un altro o implementando il Mazzoni oppure con una struttura nuova dove può essere utilizzando il territorio disponibile. Sono d'accordo con te su questo fatto. Poi i disagi che ci sono sulle autostrade marchigiane? Veniamo da settimane, da mesi, ma anche da un'estate particolarmente infernale. Quello che è successo qualche giorno fa a San Benedetto ha dell'incredibile, è stata veramente una giornata di tregenta, una giornata piena di difficoltà, di disagi, di blocchi del traffico e quindi è necessario, questa è la giornata in cui è stato chiuso il tratto da Grotta Mare a Val Vibrata, ma in generale d'estate, durante i lavori o per incidenti si creano sempre situazioni veramente incredibili sull'autostrada adriatica. Occorre assolutamente che la terza corsia prosegua da Porto Sant'Elpidio fino a San Benedetto, ma forse anche oltre da San Benedetto fino ad almeno l'Allaccio con Giulianova, con l'A24 per Roma. Non è possibile che il tratto Piceno diventi l'imbuto, la strozzatura di tutto il corridoio adriatico. Occorre la terza corsia, è stata fatta da Rimini fino a Porto Sant'Elpidio, occorrerà per 200 km, occorrerà farla anche nei 60 km tra Porto Sant'Elpidio e Giulianova, assolutamente, è una priorità assoluta da mettere nella nuova legislatura della Regione al primo posto delle iniziative da mettere in cantiere e questo fa il PA e penso che si debba cominciare a realizzarla nel tratto invece che da Porto Sant'Elpidio a Pedaso bisogna cominciare a farla proprio da Porto d'Ascoli verso Pedaso, dal sud verso il nord, perché qui c'è un'emergenza proprio nel territorio san Benedettese, Grotta Mare e quindi è lì la vera strozzatura. Ci ricordiamo anche gli incidenti che ci sono notati in galleria, i disagi in mani, non si può andare più avanti così, non si possono impiegare più due ore per andare da Ascoli, San Benedetto fino ad Ancona o viceversa, altrimenti ne risente tutto il settore economico, ne risente il turismo, c'è il rischio che molti turisti di fronte a questa difficoltà arrivino fino al Conero e poi non vengono più giù e questo sarebbe un grave danno per tutta l'economia turistica, delle Marche, dell'Abruzzo, della Puglia e quindi eliminare la strozzatura, l'imbuto del Piceno sulla 14 è una priorità assoluta sulla quale occorre intervenire al più presto. Tutto si è battuto sempre per la larga banda, i lavori sono stati fatti parecchio dappertutto, ma molti comuni ancora sono isolati? La regione in passato ha avuto un ruolo importante nella diffusione della larga banda, nel fare i progetti, parlavamo delle autostrade che sono le infrastrutture materiali, ma non sono meno importanti le infrastrutture materiali, qual è la banda larga, la fibra ottica è fondamentale che anche paesi che ancora non sono toccati, non sono in ritardo, questi ritardi vengono assolutamente colmati, la regione è impegnata ma bisogna fare di più perché ci sono delle realtà, penso a Villapigna, a Folignano dove ancora ci sono dei ritardi in alcune zone per alcune realtà, bisogna intervenire al più presto affinché questi ritardi vengono colmati perché la larga banda, la fibra ottica, i collegamenti veloci, le comunicazioni elettroniche e informatiche sono le autostrade del futuro, come diceva Bill Clinton quando è stato diventato presidente degli Stati Uniti, è la priorità di questo secolo, quindi assolutamente bisogna fare tutti gli investimenti necessari e accelerare quelli già fatti e previsti. Vabbè Pietro, molto importante quello che hai detto, ci piacerebbe averti ancora qua da noi. Ma certamente, ripeto, è importante questo dialogo, l'associazione Smart Piceno sta realizzando diverse iniziative per sensibilizzare progetti, iniziative, ecco questo sulla cultura che avverrà domenica 9 febbraio all'hotel Calabresi con inizio alle ore 16, è un'importante iniziativa, parteciperà anche la presidente nazionale dell'Arci, l'Arci è una grande organizzazione nazionale con oltre un milione e mezzo di iscritti ed è un'associazione che fa della cultura, del fare comunità la propria missione. Oggi noi abbiamo bisogno di tenere insieme questo nostro paese, questi nostri territori, esaltarne le specificità in una visione però globale. L'Arci ha questo ruolo, verrà la presidente nazionale dell'Arci Francesca Chiavacci e poi si parlerà di cultura, delle mostre di Raffaello, della mostra di Licini, si parlerà anche del ruolo della cultura, verrà presentato un libro sui beni culturali, parteciperà il professor Nunzio Giustozzi, critico d'arte e poi ci sarà il grande convegno con il maestro Jacopo Lauretti. Ok Pietro, ringrazio e alla prossima.